siamo in diretta sembra che sembra che siamo in diretta guarda dopo tanto sera ciao damiano e da e da che è successo ok no no tutto a posto ok da quanto tempo non facevamo una diretta sul canale di lupe contadino cioè sento quasi l'emozione come se fosse la prima volta eh sì tantissimo tempo salutiamo tutti eh salutiamo arrivando man mano mi leggiamo in chat buonasera mirna buonasera rosaria maria el costanza orietta damiano allora che mi racconti io cosa ti racconto sei tu il lupo e il contadino e anch'io sono il contadino per cui albertone che è arrivato ciao alberto ciao ciao riccardo ricchi guarda comunque per dopo un anno forse più di un anno direi più di un anno che non facciamo nessuna diretta radio e video stasera abbiamo deciso di ritornare qui sul canale di lupe contadino perché le vale la pena guarda in carriera va bene dai no spontanei perché stasera abbiamo con noi igor si parliamo con noi igor che arriverà tra qualche minuto e siamo molto contenti anche di averlo qui con noi e parleremo di di cose importanti questa sera eh parleremo di allora diciamo che facciamo visto che è un anno è passato un anno abbiamo cambiato un po il format stasera le domande le abbiamo chieste direttamente agli ascoltatori quindi trasmetteremo le domande con la voce degli ascoltatori la prima volta che facciamo una cosa del genere quindi noi non andremo a tradurre o a interpretare no la domanda sarà senza filtro quindi le domande per igor saranno direttamente dagli ascoltatori chi ce l'ha inviato in questo in questo periodo noi lo trasmetteremo abbiamo selezionato perché sono arrivate tantissime quindi abbiamo dovuto selezionare per un'oretta avremo questa condurremo questa conversazione fra gli ascoltatori e igor si pavano i temi che abbiamo selezionato sono due no sostanzialmente sì esatto uno riguarda un po il mondo delle fiabe che è collegato all'iniziazione l'altro invece riguarderà i viaggi nel tempo quindi parleremo di einstein parleremo di anche un po di fisica quantistica sì e chissà cosa altro abbiamo chiesto agli ascoltatori di immaginare di incontrare a un certo punto einstein e cenerentola trovarsi lì davanti e fare una domanda a uno di loro due o a tutti e due quindi molte delle domande saranno rivolte a einstein o a cenerentola e poi dopo risponderà a igor per loro vedo che dietro le quinte in religioso silenzio abbiamo abbiamo rigor che direi di chiamare ci siamo ecco ecco ciao salute a grazie e grazie per questa idea ho sentito le prime domande sono bellissime se ne sono di quelle commoventi anche poi sentiremo man mano sono bellissime sono molto ci sono molto audaci dunque voi sapete che in italia ci sono due popoli non c'è un popolo che va per conto suo c'è un altro popolo che pensa il popolo che pensa e la minoranza minoranza non riesce a parlare con nessuno di solito cioè ogni singolo membro della minoranza difficilmente tra qualcuno vuoi scambiare qualche idea per cui ogni volta che succede è un grande piacere di incontrare qualcuno della ignoranza che fa domande intelligenti e pensate se la conversazione di oggi vi sembra troppo audace troppo stressante eccetera basta che dopo quando è finita accendete la televisione e vi trovate nella maggioranza della maggioranza maggioranza nel senso linguistico del termine sentirete per televisione che parlano un'altra lingua italiana in cui tanto non hanno significato la caratteristica del neo italiano e le parole non significano niente ma sono dei gettoni dei gettoni che servono da ponte tra due o tre idee chiari quasi chiare su una serie di parole che non significano niente che servono a collegare come dei punti di punti che collegano il bottone alla camicia ecco queste parole qui servono a collegare idee tra di loro distanti è una caratteristica della lingua italiana attuale che è inascoltabile inascoltabile sempre una sofferenza sentirla quanto contenuti sapete cosa che potete aspettare per televisione o sui giornali sapete benissimo ecco quello lì è un popolo italiano invece le domande che avete fatto sentire sono di un altro popolo italiano di un'altra un'altra porzione della popolazione che sono una festa per me sono una festa sentirte proprio la seconda che quella della succedente ad una bellezza bellissima per sul tempo e bellissima ma poi ci sono altre audaci belle o interessate cattive anche che ci che ci che ci piacciono assolutamente ma adesso io metto anche un bannerino che si chiama anteprima perché in effetti noi questo è un po anteprima sai perché ti volevo far vedere un libro caro igor che ho saputo ho saputo che è stato tradotto in russo non neanche per idea ma no ma avevo capito che era stato tradotto in russo no difficilmente nei prossimi anni sarà tradotto in russo molto difficile il libro degli angeli a ok il libro degli angeli ok interessante interessante comunque ti sei fidato di un traduttore ti sei fidato di un traduttore a proposito di lingue poi l'ho rifatto un po io redattore ci parlavo io se vi interessa il punto di vista così storico di cronaca se molto il redattore russo mi chiama e dice senta qua lei nel libro parla di stalin e va bene no no dice meglio di no è meglio non parlare di stalin in russia dico perché lei di aretta lei di aretta non parlare di stalin in russia dico vabbè allora cambio quel pezzetto lì si cambi quel pezzetto lì per favore poi mi richiama un po di 60 ho visto qui lei nel libro parla di putin ecco è meglio non parlare di putin interessante questo è interessante interessante è un altro sistema di pensiero del tema sociale civile culturale sono alcune cose di cui è bene non parlare in alcuni punti sono alcune cose di cui è bene non parlare lì sono quelle da noi sono altre da non solo immagino che qualche libro stampato non so nelle filippine o nella polinesia trotto in italiano il redattore magari direbbe adesso io le consiglierei di non parlare di queste cose però è interessante vedere come funziona la libertà di espressione di paese in paese alin non sono nominabili cioè non è che è vietato è meglio non nominarli nell'uno nell'altro perché uscita vespai questo motivo motivo ufficiale vabbè comunque questo qui sono cose esotiche torniamo a noi torniamo a noi torniamo a noi sì sì vabbè in europa non è che poi cambia tantissimo è il vestito è diverso ma sì no 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 in europa sono dei divieti assoluti appunto quindi assoluti però come in europa uno che non sia un suicida non parla di alcuni argomenti se non è un suicida un generale italiano non parla di alcuni argomenti così all'estero non si parla di altri argomenti ci sono tutte queste situazioni qua in democrazia in democrazie in democrazie cioè sono dei la libertà di espressione che si sta restringendo che non era così ristretta vent'anni fa non era così ristretta vent'anni fa vent'anni fa si poteva o meglio in russia vabbè 40 anni fa però c'era una stampa che si chiama samizdat non reggimentata che ha mezzi più limitati potete dire qualcosa che volevi e dappertutto c'era un periodo precedente al nostro attuale in cui c'era una maggiore libertà di espressione ma che solo vent'anni fa attualmente c'è in europa c'è il politically correct che impedisce di dire alcune cose ecco notare l'espressione impedisce di dire alcune cose se impedisce di dire alcune cose qualunque sia l'etichetta se politica di correct non è non è una bella cosa non è bello non è bello e così anche in russia c'è un momento un corridoio strettino da superare in questo periodo corridoio strettino durerà qualche anno e poi secondo me si riallarga da capo bisogna regare diritti e parlare solo tra noi parlare solo il rischio di caccia alle streghe in questo periodo è altissimo è altissimo altissimo e vertiginoso addirittura però tra noi no si può parlare liberamente stasera e adesso e adesso che siamo tra noi parliamo iniziamo a parlare non dite in giro quello che diciamo stasera bene allora io mando una sigletta di 12 secondi e poi partiamo subito con le domande sentiamo 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 la sigletta vai con la sigletta perfetto potrebbe essere una sveglia questa sia un po' di sveglia si ce l'ha un po' ce l'ha assolutamente allora andiamo con le domande andiamo con la prima domanda di valentina che potrebbe essere la mia perché ci ho pensato tanto a questa domanda ha scelto damiano di metterla proprio in prima posizione sarebbe bello farti un seminario su questa domanda quante domande in tutto allora guarda noi le abbiamo preparate sei quindici sedici più o meno però possiamo interromperci anche prima un'oretta un'oretta vediamo quante più riusciamo a farle esatto ok valentina chiede ciao igor qual è il primo passaggio da fare per chi è bloccato e non riesce ad immaginare e non sa proprio da dove cominciare grazie ecco dieci secondi per chi ascolta per pensare una risposta se vi chiedessero voi questa cosa qui cosa rispondereste dieci secondi soltanto è bella perché è una domanda che va al punto si va al punto cioè io di tutto ammetto anche nessuno ammette in un popolo italiano in uno dei due popoli italiani nel popolo grosso il popolo grosso nessuno ammette di essere bloccato perché non è bloccato per quelli intorno a lui sono come lui quindi o sono bloccati tutti e uno pensa impossibile oppure non siamo bloccati cioè facciamo quello che si può invece il popolo di minoranza sente questa cosa dell'essere bloccato con grande forza cioè non appena uno della minoranza poi se volete ci sarà domanda che minoranza non appena della minoranza si affaccia la maggioranza scattano dei meccanismi per cui una persona è sempre bloccata sente bloccata perché perché non ha più voglia di vivere perché ha dei motivi di tristezza più grande di lui o di lei perché ha dentro tante cose che se lo dice che se le dice nessuno lo capisce e se prova a dirle si accorge che nelle lingue che tutti quanti possono capire non ci sono delle parole sufficienti per dirle allora questo capita a tutti i bambini i bambini a un certo punto si accorgono che quello che sentono non può essere detto in modo che gli adulti lo capiscano a tutti a tutti noi è capitato questo allora siccome è brutto molto brutto avere dentro qualcosa che non puoi dire si tende a nascondere quel qualcosa a dimenticarsi erano perci caso se non posso dirlo non va detto c'è anche un filosofo del primo novecento che è passato alla storia alla cronaca insomma la storia normale per una sua frase di quello che non può essere detto non bisogna parlare vittgenstein vittgenstein ecco uno può dire no bisogna parlare solo di quello che non può essere detto si poteva rispondere cent'anni fa attualmente questa frase è molto attuale perché di quello che non può essere detto e compreso dai più che ti circondano non bisogna parlare perché sennò sei matto sei diverso sei isolato la gente non ti segue giorno dopo giorno giorno dopo giorno una persona comincia a bloccarsi quando siccome quando si accorge di essere bloccato è già troppo tardi perché è un'ibernazione poi pensate alla glaciazione non c'era stata il periodo di glaciazione c'era una parte il continente europeo era tutto quanto ghiacciato erano piccole situazioni in cui non era ghiacciato crescevano alberi si poteva cacciare si poteva coltivare qualcosina mangiare le bacche proprio il resto era tutto quanto muraglie di neve è che un po così attualmente la situazione se uno si misura con la maggioranza si sente bloccato da che parte cominciare allora siccome una cosa di cui sono esperto personalmente questa che mi sento bloccato anch'io tanto tante volte al giorno mi sono accorto che modo migliore si chiama valentina il modo migliore cara valentina e far mettere a fuoco quello che non ti piace cioè oggi sono di cattivo umore ma neanche di cattivo sono proprio triste sono proprio giù proprio giù si vivo la salute va bene in base agli ultimi esami del sangue va bene non ho grossi problemi di carattere economico diversi da quelli degli altri frequento qualcuno in fin dei conti posso continuare a vivere ma non ho voglia perché non ho spinte ecco questo qui sarebbe il disastro puro è detto così oppure una miniera d'oro perché se tu ti fermi se sei in tram scendi del tram simbolicamente che aspetti il tra poco è in autostrada ti fermi su una persona di servizio se sei a casa cambi stata odia faccia la finestra ecco la domanda diventa che cos'è che mi dà fastidio cos'è che mi dà fastidio cos'è che mi disturba prima domanda e lì scatta perché all'inizio dici no ho paura di dirlo non aver paura di dirlo seconda domanda come vorrei che fosse in un altro modo da lì in avanti l'immaginazione è come la lampada di aladino che proprio caverna di aladino strofinamento della lampada compare il genio dimmi di farti comparire quello che vuoi immaginazione così sono queste due domande che sono difficilissime cosa non mi va cosa non mi va e sono segrete come domande sono segrete ma domande segrete perché scelgo il tram l'autostrada o col andare alla finestra per quando sei impegnato a lavorare non hai il tempo di sentire qualcosa che ti piace che non ti piace devi lavorare interventi gli intervalli per balli dove lo spostamento lì una persona è alla prese con se stesso alle prese con se stesso cioè senza difese quando tu sei solo con te stesso non hai difese per dirai con gli altri ecco è importante il testo se sei in tram scendi dal tram assurdamente fai uno stato fermati ti fermi vedi che le altre macchine continuano e tu sei fermo e vedi il cielo quindi l'orizzonte il cielo e tutto di cos'è che non mi piace affrontare questa cosa prendere di petto il nemico praticamente andare all'assalto di questo nemico interiore che enorme all'inizio e che fatto di mattoni per cui si toglie un mattone è già un grande risultato togli un altro mattone grande risultato quando togli dieci mattoni c'è già una galleria quando ne togli un po di più stai attento che sta crollando il nemico perché stai trovi i mattoni vien giù ecco questa è la risposta a tua domanda bella molto bella molto bella mi verrebbero da chiedere altre cose però però stasera andiamo ecco la valentina valentina ecco bene speriamo che sia soddisfatta ok seconda domanda di elisabetta prego elisabetta sentiamo cara cenerentola perché devi rientrare prima della mezzanotte che cosa avviene dopo la mezzanotte mi ricordo che mia mamma mi diceva sempre che dopo la mezzanotte c'erano in giro solo le prostitute a qualcosa che fare con questo o ben altro grazie bello il tono di o ben altro cambia il tono cioè cenerentola non era una signorina compiacente o no dunque la domanda è una domanda da grande specialista una domanda professional questa antropologo professionista che la domanda che gli antropologi non si fanno questo vino come perché il naso di pinocchio si allunga prova a chiederlo uno esperto di collodi dice come quale naso chi va beh è capitato una volta c'era una trasmissione della rai in cui facevo presentavo un canale sperimentale della rai e c'era una pinocchiologa la famosa che dico la domanda era allungamento del naso di pinocchio acqua e che rilevanza erotica e la prima che ora dice non ho capito dico il naso di pinocchio si allunga anche altre cose si allungano in certi momenti non è che c'è un rapporto dice non ho capito allora fermiamo le riprese camera spengono gli spiego tutto quanto non le faccio il disegno dico rimettiamo in moto riprende via azione faccio la domanda e dice non ho capito ci sono alcuni punti ciechi per l'antropologia che non riesce ad affrontarli possono passare secoli invece elisabetta si chiama si elisabetta va al punto cos'è sta di mezzanotte qua perché mezzanotte dunque è un punto importantissimo che collega castanera si chiama un gergo il potere di mezzanotte cos'è il potere di mezzanotte è una cosa utilissima per tutti quelli che ci ascoltano adesso allora la cenerentola parla con la fatta si chiama fatta però una tipa così è più che altro una strega tenendo conto anche del nome cenerentola c'è dentro il cenere no le streghe venivano bruciate quindi c'è un'allusione come dire si chiama cenerentola guarda che non è una fatta è una strega e sta spiegando qualcosa di inconsueto qualcosa di un po proibito ecco che caratteristiche alla strega la strega prima caratteristica che a non deve farsi conoscere la strega deve essere dissimulata è un'arte è un'arte la strega deve essere capace di avere una vita normale normale o ordinaria come tutti gli altri e di avere una vita segreta diversissima questo è un compito professionale per evitare certi rischi collegati alla professione di strega se una strega viene beccata sul fatto a un certo punto ma finisce sul ruolo se non si fa beccare perché riesce a essere normale giusto questo punto di vista tecnico dal punto di vista poi più oggettivo ci sono due mondi c'è il mondo della normalità e il mondo al di là della normalità castaneda dice li chiama nagual e tonal tonal è il mondo della normalità nagual è il mondo al di là lo stregone il bruco dice castaneda che spera queste cose qui le raccontava fa tantissimi sforzi per arrivare dal tonal dalla normalità al nagual all'aldilà appena arriva nel nagual deve essere capace di tornare nel tonal subito perché perché lui perché viene fuori dal tonal perché il tonal lo imprigiona se finisce nel nagual e si trova bene nel nagual diventa prigioniero del nagual che sicuramente è migliore del tonal il nagual cioè l'aldilà è migliore dell'aldiquà però comunque sia un universo limitato invece se c'è una ragione importante per fare il bruco lo stregone la strega è quello di essere liberi per cui tu vieni fuori dal mondo normale vai nel mondo al di là ma non ti lasci incastare nel mondo al di là e imparare a saltare da una parte all'altra quindi arrivi fino a mezzanotte nel mondo normale poi torni nel mondo incantato quando sarebbe un decantato impara che devi tornare da capo di lì così insieme a potere di mezzanotte potere di switch di switchare da un mondo all'altro ecco nella fiaba è chiarissimo dice tu vai a fare colpo sul principe farai colpo sul principe non farai mica la scema che sta dietro il principe per tutta la vita poi no c'è niente di male che basta fare col no non ti deve bastare far colpo sul principe tu diventerai principessa e poi regina amica farai la regina però tanto vale che rimani a fare la sguattera e comunque sia una personalità chiusa impara sempre che c'è un punto al di là del quale tu torni per conto tuo quindi non c'entrano le prostitute che vanno in giro di notte la mamma elisabetta faceva certi pensieri li teneva fuori dalla sua cerchia a questo io non è collegato con la ma le maggioranze le minoranze di cui parlavi prima sì 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 per questo dico non parlate di quello di cui parliamo qua no no rimane fra noi maria maddalena la prossima premesso che l'idea di rendere felice qualcun altro con una domanda non mi convince proprio per niente ma se questo è il percorso obbligato allora domando ad einstein e a cenerentola quando siete felici se lo siete come create la vostra felicità come si crea la vostra felicità non si crea non si crea la caratteristica la felicità è che non si crea e che si aspetta lunga letteratura a questo riguardo bellissima letteratura per condensarla in fretta bisogna staccarsi un pochino dalla parola latina felicità 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 eccetera no triato da felicità stati felix latino vuol dire fertile un allevamento di polli e felix un vivaio di piante felix quando tu pensi la felicità non pensi a un allevamento di polli pensi a un'altra cosa un'altra lingua europea lo vede meglio per la felicità che l'inglese happiness happiness è un bel termine happiness è esattamente quello che tu pensi quando si quando pensi alla felicità happiness è un astratto dove viene dal verbo happen che vuol dire succedere happiness tradotto letteralmente sarebbe succedibilità succedibilità benissimo la caratteristica della capacità di succedere di qualsiasi cosa ecco questa è una bellissima idea barbarica perché barbarica come idea però ottima perché barbarica perché per i latini la felicità se era all'interno di uno spazio regolamentato per cui novità che siano coltivabili e fruibili e mangiabili siano latini no molto pratici i barbari erano pazzi barbari pazzi inglesi erano barbari quando ha formato la questo ha formato la lingua inglese per esempio una caratteristica dei barbari c'è un cronista medievale che dice i barbari non hanno paura dei naufragi cioè per il marinaio normale naufragio evitare assolutamente per i barbari è una festa quando la nave si sfascia o va a sbattere contro gli scogli per loro è bellissimo perché è una novità non mi è mai capitato di dover lottare contro gli scogli e le onde quindi questa differenza tra latini e barbari no dice questo si chiama se vi interessa si chiama sidonio se guardate in internet sidonio lettere sicuramente ci sarà il testo gratis in internet magari in latino in inglese sidonio sidonio scritto così lettere è l'ottava lettera di questa raccolta di lettere di sidonio dice che i barbari quando non fregano sono felici perché il concetto di happiness cioè che succeda quello che può succedere quindi crearsi la felicità è il contrario è il programmare la felicità non è programmabile naturalmente uno dice infatti tante volte ho provato a essere felice io che ho vinto all'otto 500 miliardi di miliardi provato a essere felice mi sono programmato tutto e sono molto triste con i miei 500 miliardi di miliardi che si ripete tutto quanto da capo perché ora lì la felicità non è programmabile non è creabile se la crei non è felicità deve succedere succedere fine della risposta bellissima adesso abbiamo andrea che fa una domanda direttamente ad einstein ciao signor albert per scoprire un sistema di comprensione più alto più ampio bisognerebbe togliere la variabile tempo dalle equazioni per togliere l'effetto osservatore bisognerebbe togliere le equazioni innanzitutto perché o meglio le equazioni che uno riesce a fare così l'altro giorno parlavo con un fisico il c'è veramente la lavagna a casa e si mette a scrivere le equazioni una lavagna poi cancella poi continuo per continuo le equazioni di 20 30 righe ins y z e sigma alla frazione radice quadrata per x per i per i per i per la seconda ecco se uno togliesse le equazioni che è una formalizzazione già sarebbe affacciarsi una realtà non prevedibile perché poi questo fisico mi raccontava della caratteristica differenza per esempio tra fisico e biologo e che il biologo quando fa un'analisi non sa cosa troverà il fisico quando fa un esperimento sa sempre in anticipo cosa troverà quindi è sempre all'interno di un sistema di comprensione sempre all'interno di una teoria chiusa fisico io l'ho preso in parola perché ho fatto sei mesi di fisica l'università che sono scappato via subito perché non capivo niente non insegna all'università dove io non sono riuscito ad andare avanti più di sei mesi quindi fidavo ciecamente di questo è una bella idea che il fisico prevede crea la sua il suo sistema quindi per entrare in un sistema nuovo si tratta di eliminare la creabilità del sistema poi togliere la variabile tempo bellissima perché qui si entra in un altro argomento che non c'entra niente con la fisica l'argomento della teoria della creatività su dire creatività trovare soluzioni nuove ma nuove non solo per gli altri ma anche per te meravigliarsi stupirsi la creatività se non ti stupisce non è creatività per arrivare alla creatività come si fa dopo decenni decenni di studi di teorici della creatività il bisogno non essere preoccupati se sei preoccupato non crei quindi se il fondamento della preoccupazione è sicuramente la variabile tempo se tu sei preoccupato per un qualsiasi motivo si è preoccupato perché tra un po può capitare qualcosa perché ti manca tot tempo per arrivare a un certo risultato non sai ce la farai nello spazio tu puoi non essere preoccupato cioè stai facendo sci da fondo te ne sbatti di tutto ma in bicicletta su una strada sterrata e ne freghi di tutto quanto lo spazio non ti dà fastidio se pensi a da facendoci da fondo cavolo sono le 19 e 20 mi chiude il sormiere cosa mangio stasera grazie alla preoccupazione quindi sicuramente per entrare dentro una forma di creatività cioè di scoperta bisogna eliminare la variabile tempo in questo caso andrea ha naturalmente ragione il tempo sembra un problema in questa visione grosso non solo le 22 e 9 quindi andiamo avanti con elisa caro alber del mio cuore siamo nati lo stesso giorno e nostro padre porta lo stesso nome ma tu questo certamente lo sai già dimmi nel tuo quotidiano nel tuo intimo cosa è cambiato dopo la scoperta della relatività del tempo e a te cara cenerentola intanto sono felice di trovarti qui con albert anziché col principe azzurro ti domando ma non provavi rabbia durante tutte le angherie subite e se sì cosa te ne facevi di quella rabbia allora accettiamo quest'idea di damiano di mettere le interposte persone di einstein un po me n'intendo allora cosa è capitato all'estate soprattutto della relatività è stato è molto triste molto triste nel 905 molto triste perché ha pubblicato un suo articolo sull'attività è accorto nessuno cioè diceva guardate che newton ha torto cioè che la fisica attuale è sbagliata sulla rivista scientifica e nessuno nessuno ha detto niente quindi da un certo punto di vista sgomento dall'altro punto di vista effetto van gogh sono riuscito a superare la mia epoca poi van gogh però è finito male perché questione di tempo van gogh o si è sparato gli hanno sparato prima che si accorgessero di lui einstein è stato un pochino più fortunato che dopo qualche mese che nessuno gli ha dato retta plank e così via e altri hanno detto ma interessante il suo punto di vista mi ha cominciato a fare a prendere un po di coraggio einstein era un impiegato di seconda categoria dell'ufficio brevetti di zurigo non è un professor universitario non aveva accesso all'università perché aveva litigato i professori la litigate professori il papà aveva scritto ai professori dicendo perdonate mio figlio prendete lavorare e non ha avuto risposta fa di einstein per cui era molto non ero presso a essere solamente da dal proprio problema anche dal papà speciali che c'era il papà che era triste perché ci teneva il papà che le facesse carriera universitaria non funzionava per un po è andato avanti così quando è nato il premio 9 nel 21 cioè 16 anni dopo non gliele andato per la teoria dell'attività perché non era ancora non era ancora stata presa in considerazione cioè sì è vero c'hai ragione risulta così con i tuoi sistemi i calcoli sono migliori ma è troppo nuova troppo qui premio 9 te lo diamo perché te lo meriti ma non per questo quando einstein si fa fotografare con le con le faccine con la lingua fuori con i capelli spettinati è una specie di lampeggiamento di vaffanculo detto l'ambiente cioè non mi avete capito non avete capito non avete preso in considerazione quello che ho fatto vi ho cambiato il mondo vi ho cambiato il mondo vi siete degnati di riconoscerlo sì il posto ce l'ho a princeton l'università va benissimo però adesso per esempio i quantistici mi dicono che sono già superato ma han capito cosa ho detto io eccetera eccetera qui questo la prima parte della domanda la seconda parte la rabbia della cenerentola la cenerentola non è una personalità complessa che possa provare rabbia e trattenerla più che rabbia prova dolore sconfitta è una ragazzina e piccolina è una nuova diciamo era una nuova interpretazione della stessa attrice che aveva fatto qualche secolo prima maria di nazareth che era quella che stava a casa da sola siccome a quei tempi le donne non andavano a scuola palestina quindi era marginale la maria di nazareth la maria di nazareth diceva visita di un arcangelo gabriele cenerentola e c'era visita di una fatta strega è la stessa storia stessa storia probabilmente se avesse avuto la complessità la cultura la profondità diciamo la abitudine all'elaborazione necessarie per sbagliarsi l'arcangelo non sarebbe arrivato e la fatta non sarebbe arrivata perché la rabbia avrebbe funzionato già per sé per conto suo cioè detto tra noi sempre detto tra noi e non dire nessuno c'è attualmente il nuovo femminismo siete accorti che c'è l'altro giorno un taxista siccome adesso non so più andare in bicicletta per qualche mese sono a prendere il taxi o il tram per cui si avverte un mondo nuovo con tram per un mondo nuovo e il tassista dice ma ha sentito cosa ha detto quella scrittrice americana dico chi dice è non mi ricordo però quella stile una specie americana che ha detto che la cappella sistina e maschilista e razzista perché non c'è neanche un nero e le donne sono virilli lei cosa ne dice di questa roba qua ecco così si chiama femminismo anche questo che una elaborazione tutta costruita sulla rabbia una rabbia che secondo me non è determinata soltanto dalle condizioni femminili di quello che simone de bouvard chiamava secondo sesso no che sicuramente ha dei svantaggi motivati immotivati è una rabbia che gira nell'aria sono arrabbiata per milioni di motivi adesso formalizzo i miei motivi con l'equazione femminista benissimo benissimo la società andrà tanto avanti grazie al tuo sacrificio perché sacrifici perché se tu ti fai portatore di rabbia o portatrice di rabbia sei finito hai già svolto il tuo compito hai già impollinato i fiori che potevi impollinare se sei arrabbiato o manifesti questa rabbia o la trattieni tu sei hai già svolto il tuo cuore puoi anche morire anche morire se sei addolorato e sarete la po addolorata sei sconfitta e sei triste non è il momento di finire se all'inizio quando riesce a produrre arrabbia hai finito hai finito quindi la cerentola secondo me non si arrabbia sì e poi appunto è meglio non prendere gli autobus allora in certi periodi perché ci si può fare ma abbiamo saputo in questo perché sono caduti in auto in sotto male sulla fronte esatto no ma sei perfetto non si vede non si vede nulla la prossima domanda no la prossima domanda di francesca ed è riguardo i maestri invisibili è bella è molto bella l'abbiamo inserita lo stesso un po spinta non c'entra coi temi della serata ma la cosa dici ma la mettiamo lo stesso anche perché poi i maestri ci saranno nei prossimi mesi che sarà un bel corso con igor sui maestri invisibili a novembre non diciamo nient'altro francesca ciao igor i maestri invisibili dicono sempre la verità grazie verità verità è una brutta parola verità è una brutta parola a me non piace per niente la verità la parola intossicata verità cosa può essere necessariamente quello che pensi adesso tu sei arrivato a stabilire la verità qualsiasi ambito il droghiere fa pagare dei prezzi troppo alti sei arrivato a stabilire questa verità hai scoperto che no pagare il pezzo è un esempio così no generico tra sei mesi un anno tu penserai il contrario quindi a meno che tu non sia un adoratore della verità per cui ti blocchi sulla verità attuale di blocchi sulla verità attuale tra sei mesi un anno ti annoierai di te stesso è brutto questo è molto brutto noi a sé stessi una cosa bruttissima che capita tante persone a tutti quelli che penso di avere ragione capita questa cosa i maestri invisibili ovvero sia quella parte di te che un pochino più avanti di te non è coerente sicuramente non ti dice la verità che ti aspetti tutte le volte che uno arriva che mi capita metto tutte le volte che ci parlo una volta al mese io arrivo con delle certe idee cioè o è bianco e nero o arancione o verde vediamo cosa mi mi dicono i miei ecco mi dicono no è profondo è profondo è elastico ed è millenario ma è proprio e verde arancione marrone no è profondo elastico millenario di come questo mi lascia indietro ovviamente certo quando parli con noi tutto quello che avevi elaborato prima è poco quindi sono si aspetta come verità un aver ragione con aver torto non sono quello che si chiama i maestri però io l'interpreto francesca se ti avesse chiesto i maestri invisibili sono sempre sinceri sinceri un'altra cosa sinceri vuol dire se non nascondono niente ma non esiste non esistendo i maestri invisibili non possono nascondere niente come sono una parte di noi non è che sono delle figure almeno questo il discorso razionale poi nel discorso non razionale esistono cioè qui adesso che sono le 22 22 alle 22 22 i maestri non esistono fuori dal tempo esistono per dire sicuramente ci sono dei problemi di trasmissione preferenze per cui se tu chiedi per esempio il mio vicino di casa è vero è vero che è innamorato di me come sembra come mi è sembrato due anni fa quando mi ha salutato in ascensore dicendo buonasera è vero che innamorato di me è molto possibile che ti scappi il contatto e che maestri invisibili ti dicano si è innamoratissimo di te fatti avanti cosa che poi non risulta vera perché è che hai sfasato a questo serve in realtà quella cosa importantissima fondamentale che si chiama la conferma cioè non appena su sospetti sospetti che ci sia un'interferenza di carattere emotivo sentimentale o altro conferma la conferma di solito dice guarda svegliato tutto rifai la domanda oppure sì 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 va benissimo così come bene sentiamo la domanda di elie ciao albert ciao cenerentola che bello incontrarvi potete intercedere per me per favore e chiedere a igor di tradurre lui la divina commedia sarebbe bellissimo grazie confido in voi no 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 va tradotta divina commedia non va tradotta in italiano devi tradurre tu nel divino commediesco è fatta apposta è fatta apposta ma chiavelli sì ma chiavelli sì si provi a leggere il principe quei discorsi la prima decada di tito livio non si capisce niente il testo di macchiavelli un inglese capisce tutto l'italiano non capisce niente ci vorrebbe la traduzione in italiano moderno perché macchiavelli è molto cinquecentesco ma dante non è trecentesco dante fa dei dei giri sintattici che sono dei turgui dati nella tua mente se tu prendi leggendo dante tu prendi degli autobus in cui lui va finisce la frase alla fine del verso avanti per un un verso un altro verso un altro verso perché vuole portarti dentro non dentro di lui ma dentro di te se muovi anche soltanto una sillaba ti perdi tutto il giro che poi un italiano straordinariamente attuale quello di dante solo bisogna togliere la variabile tempo cioè richiede tempo se provi a leggerlo questa velocità con cui leggi un giallo o con cui leggi un articolo di giornale non capisci niente e prendi il tempo parte che il tempo in poesia è sempre abbondante c'è una poesia è lunga così no con sonetto e lungo così giusto però non è che leggi un pezzo di giornale lungo così con la stessa velocità con cui legge un sonetto il pezzi giornale dopo così ci metti 15 secondi a leggerlo un sonetto ci metti non è che la pagina bianca lui ha risparmiato a differenza del produttore il sonetto è condensato il tedesco poesia si chiama dictung che vuol dire condensazione condensazione tedeschi non prendono nessuna parola stranieri cioè la parola straniera per esempio television televisione radio un funk ma proprio non passano non passa niente il tedesco che si è stato il tutto tedeschi dato che la parola poesia non hanno l'inglese poetry francese così il russo poesia italiano poesia tedeschi no poesia cosa essere poesia cosa essere poesia poesia e dici tantissime cose in pochissimo spazio quindi dictung condensazione e dante è come se tu prendessi cioè sono tre tre libri sono una biblioteca tre scaffali e tre scaffali piedi di roba grande acquisto dante risparmi un sacco di soldi perché prendendo soltanto i tre tre leggi vent'anni e l'altra parte col mazzo che si è fatto voglio dire a fare ste terzine andare a mettere in prosa sarebbe proprio una bigliacata già la scuola io ho capito fatto liceo classico non ho capito niente di niente in incidente proprio liceo classico il bercé che è una bella scuola divina commedia figure di rispetto alla memoria non si chiama niente non si chiama niente l'università non ho capito niente delle commedi che te la traducevano a 40 anni ho cominciato a leggerla è stato una cosa ma cos'è questo come come hanno fatto a portarmela via perché me l'ha fregata fino adesso traducendomela andiamo avanti con eugenio buonasera volevo chiedere un consiglio pratico per trarre vantaggio a trarre vantaggio dalle lezioni del passato e allo stesso tempo poi imparare a camminare sulle acque grazie mille due cose apparentemente inconciliabili dunque camminare sulle acque vuol dire non lasciarsi sommergere dal passato le acque nella bibbia sono il passato sempre diluvio passato mar rosso passato e c'è il suo cammino sulle acque e ti insegna a camminare sulle acque dovevi fare l'esame di camminata sulle acque mi ricordo che c'era una volta l'esame di camminata sui carboni ardenti ricordate quando c'è secondo me se non avesse detto a gesù cosa c'è da imparare dal passato a occhio e croce avrebbe detto niente niente io sono di questo parere cioè dal passato non si impara un accidenti perché perché il passato non esiste cioè se tu adesso fai la storia del regime di napoleone non stai guardando una cosa che è successa nel passato stai facendo adesso un lavoro nel presente cioè tutto quello che tu vedi del regime di napoleone vedi tu e corrisponde al tuo modo di sentire adesso 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 tra vent'anni se tu dovessi scrivere tra vent'anni un libro su napoleo a scrivesse un libro totalmente diverso passato è andato il passato se anche uno riuscisse a ricostruire il passato con attendibilità sarebbe interessantissimo delle risposte che dà riguardo al passato cioè il passato è pieno di risposte quando è passato davvero quando c'è uno storico geniale che riesce a capire allora il passato è interessantissimo per risposte che dà riguardo al passato le risposte che dà riguardo sono studi al primo secolo dopo cristo interessantissimo vedere cosa il primo secolo dopo cristo sapeva il primo secolo dopo cristo però non serve niente è solo un piacere passato piacere finissimo bellissimo di una ginnastica intellettuale però non serve niente anche perché uno dei grandi guai della gente che tipico sia dell'uomo sia di altri animali tutte le situazioni nuove a cui si va incontro c'è un riflesso condizionato che vi porta a voltarsi indietro e a vedere in base ai ricordi come comportarsi se vi sarete accorti di questo cioè tu ti trovi c'è un conflitto russia ucraina per esempio ecco ora cosa fa uno si volta indietro e vede cosa è successo dieci anni fa vent'anni fa 30 anni fa 40 anni fa tutti lo fanno no non è sbagliato è adesso il futuro non da mica retta al tuo passato per adeguarti al futuro non deve camminare con la testa voltata indietro della testa tutta davanti quindi il passato è bellissimo ma come bello leggere gialli bello leggere gialli bellissimo leggere già non ti serve a niente serve niente e sto leggendo i gialli di rex stout vero wolf un piacere infinito proprio è una droga è bellissimo prima di tutto sono scritti magnificamente bene perché rex stout uno scrittore gialli ma un grandissimo scrittore un grandissimo scrittore un dinologo eccezionale ma non serve a niente non serve a niente e alla fine del libro leggi 200 160 pagine scopri che è colpevole non serve a niente hai solo passato alcune ore in compagnia di nero wolf e di arci goodwin che sono spettissimi e del cuoco fritz bremer e di peodro il gialliniere però non serve a niente ecco il passato non serve a niente ma allora tutti gli storici prendersi sono scrittori scrittori che fanno dei romanzi la storia è un genere narrativo un genere di letteratura narrativo e un genere letterario come la filosofia non è che uno chi pensa che la storia sia la descrizione di cose veramente avvenute e che possa essere magistra vite come dicevano una volta maestro di vita ma che scherzi grazie bellissima bellissima risposta andiamo avanti con luigi ciao igor o 59 anni 52 anni fa alle scuole elementari il maestro mi disse preparatevi ad andare che fra poco suona la campanella ecco quel preparatevi ad andare mi fece scattare tre secondi tre quattro secondi di domanda io chi sono chi sono io interrotto luigi il racconto cioè deve rispondere adesso perché luigi pensare al giudizio universale che sa prima giudizio universale il corriere conferma il fatto quotidiano conferma che è cominciato giudizio universale che mondo è finito tutti quando non presentarsi al processo no ecco più o meno sarà così risiedrà chi sono questo qui è uno dei punti peggiori secondo me io chi sono è uno dei punti peggiori della cultura europea europea e ora intendendo per europa dopo l'affermazione cristianesimo i latini cioè altro problema assolutamente i greci figurarsi i latini erano più cosa faccio i greci erano cosa mi piace non chi sono chi sono inutile in latino non ce n'è anche raro verbo essere al presente in ebraico non c'è assolutamente verbo essere presente non esiste per dire io sono tarzan in ebraico si dice io tarzan tu sei jane in ebraico si dice tu jane non c'è verbo essere quindi non c'è proprio l'idea dell'essere qualcuno non essere qualcun altro e c'è l'occidente che poi è arrivato fino alla psicanalisi con le sue follie e proprio chi sono io chi sono io parte dall'esame di coscienza arriva la psicanalisi cioè devo vedermi tu pensa l'esame di coscienza chi sono io l'esame ste lo fa una persona non puoi essere da solo perché da solo non ti esamini sai benissimo chi sei fai così sai chi sei però se c'è un altro punto di vista tu chi sei io chi sono sono questo questo quest'altro tutte le cose che dice nella versione sono bugie per momento stesso in cui le dici non sono tutto di te sono una piccola parte devi costringerti a credere di essere quella piccola parte lì dopo la psicanalisi è arrivata una cosa si chiama consapevolezza essere consapevoli che l'aberrazione per non dito in giro la gente si incazza ecco essere consapevoli è il grande danno che si può produrre a se stessi consapevoli vuol dire letteralmente quel con iniziale c'è quel con iniziale con vuol dire in compagnia ecco cosa vuol dire cosa posso dire di me che sono io se lo puoi dire non sei tu cosa mi è permesso sapere di me che io posso comunicare agli altri se lo puoi comunicare agli altri non sei tu chi sei tu lo saprai tra 200 anni non prima non prima perché non appena sai di essere qualcosa già non lo sai più che sei già oltre quindi quel maestro secondo me non penso che intendesse chi sei tu la campanella però luigi preso ha diritto di dirmi non hai capito niente non mi convince la tua risposta ma io mica devo convincere nessuno lei non sa chi sono io mi verrebbe facciamo le ultime due allora sì abbiamo superato l'ora abbiamo ancora adesso ci provare più o meno cinque si pronti ce ne sarebbero di più ovviamente ma queste ma non c'era per fare una risposta e fulmine ce la facciamo perfetto benissimo allora graziana alla prossima stiamo non stiamo facendo tanta fatica stasera proprio io faccio da antenne graziana ci chiede ciao vorrei chiedere a cenerentola in che modo riesce a gestire il rapporto con le sorellastre ovvero come gestire i detrattori interni o esterni per far sì che questi non prendano il sopravvento e cenerentola ci riesce bene attraverso la connessione con la natura e quindi con la magia ma vorrei sapere qualche consiglio in più riguardo alla città a lei ignora e ignora loro vanno via lei subisce le ignora perché arriva la fatta che di un altro livello la strega di un altro livello le sorellastre sono a livello 1 la fatta è livello 18 altre domande sì sì marinella fantastico allora visto che loro sanno tutto vedono tutto mi piacerebbe chiedere loro qualcosa che sanno vedono su atlantide faccio spesso sogni dove mi muovo in mezzo a colonne che si sgretolano sott'acqua e quindi come era il mondo come era la come si viveva in quella in quella civiltà dunque allora naturalmente sta risposto e fulmine atlantide è un equivoco platonico concentra con l'atlantico platone dice che c'era una penisola che collegava l'europa all'egitto questa penisola a un certo punto non c'è più stata perché sprofondata perché era troppo bella troppo erano troppo bravi dicendo questo non sta dicendo è successo veramente così come dice tanto va la gatta lardo che ci lascia lo zampino non bisogna sapere di che razza è la gatta o che lardo dove ha comprato lardo la padrona di casa non è questo l'importante importante l'idea che suggerisce platone li sta indicando una cosa che è ancora attuale c'è l'impossibilità di stabilire un ponte tra sud del mediterraneo e nord mediterraneo c'è avuto ragione platone platone ha avuto ragione se tu c'è la chiesa se uno guarda la struttura della chiesa che la struttura della repubblica di platone però dice per fare uno stato che dura si fa così i cattolici hanno detto prendiamolo in considerazione ha fatto la chiesa o son 1800 anni che vanno avanti e nessun altro stato è durato così tanto poi platone dice atlantide guardate che il sud del mediterraneo non comunicherà mai con nord mediterraneo non c'è possibilità perché il ponte che ci poteva essere non ha funzionato e crollato che non si risolve non si ricostituirà mai e c'è avuto ragione cioè fino adesso voto ragione da matti naturalmente poi appunto sono degli americani americani che non capiscono quasi niente dal punto di vista simbolico ha pensato che atlantide fosse un posto cioè anch'esto di che razza era la gatta era soriana se la siamese persiana perché è importante per loro americani sono così e purtroppo gli americani ha vinto sta guerra e non dico che sia una brutta cosa però da quando ha vinto la guerra sono peggiorati da matti e hanno influenzato tantissimo la cultura nella cultura europea per cui sono inventati gli alieni e gli europei sono mangiati felicemente gli alieni americani che oppureva tutto americano sono inventati il senso di colpo verso i neri e che noi non abbiamo caputo quel senso di colpo perché hanno i neri sono sempre piaciuti in italia sempre ma mai dato fastidio a nessuno in italia siamo diventati razzisti nella imitazione degli americani con persecuzione dei razzisti che siamo diventati noi razzisti per evitare loro e hanno che abbiamo caduto anche in atlantide questa prima risposta seconda risposta che mi permette le colonne che si sgrettono nell'acqua durante un sogno sono un bel segnale sono un bel segnale perché dal punto di vista del vocabolario onirico rappresentano i cedimenti degli ultimi delle ultime resistenze a un orgasmo significativo questo orgasmo significativo non è nel passato millenario ed l'immediato futuro non solo metterlo in pratica nicola ci chiede buongiorno a tutti ad einstein vorrei chiedere come ha fatto a rimanere sempre su energie così alte nonostante con tutta probabilità le persone che lo circondano erano molto più basse di lui e accenerentolo invece come ha fatto a rimanere se stessa nonostante a un certo punto sia entrata in un mondo così brillante da farti venire voglia di cambiare grazie la domanda è bellissima bellissima proprio nicola è un poeta un narratore narratore ma eccezionale eccezionale anche il tono in cui l'ha detta questa frase proprio splendido di ceneretto aveva già parlato conosceva il potere di mezzanotte di einstein dunque ma non è che avesse intorno delle mezze calzette e dei big simpatici avete visto il film openheimer e non è piaciuto ma non è piaciuto niente però a un certo punto si vede un personaggio che meriterebbe quello lì sia un film intero che kurt che anche che einstein dice questo è un mio amico che ha problemi alimentari sicuro e dell'area dei problemi alimentari era sicuro che ne avrebbero avvelenato e infatti è morto di fame perché a certo punto ha deciso mi stanno avvelenando smetterò di mangiare è morto di fame cioè di nutrizione per non essere avvelenato un logico matematico interessante guardate su wikipedia curto godel sito godel vedrete che ha fatto un sacco di cose interessanti ecco era un amico di einstein curgo delle quello che dice a una conferenza di einstein dice domanda ma siamo sicuri che il passato va solamente cioè siamo sicuri che il tempo va solamente dal passato verso il futuro non è che nella teoria delle attività ma anche nella qualche altra parte che non dice chiamate l'ambulanza perché io mando io compro un biglietto del treno oggi un treno che partito 25 giorni fa non è possibile e einstein dice la domanda del professor godel è molto il promettente interessante infatti all'interno di uno spazio di tempo limitato la settimana un mese il tempo va solamente verso il futuro ma se noi ampliamo la regione temporale non va più soltanto verso il futuro ma va anche verso dal futuro e sul passato quindi via degli amici simpatici questo qui lo trovate in un libro che si chiama autobiografia scientifica di einstein pubblicato da borghieri che sono gli atti di quel congresso poi un altro amico di einstein era chaplin con cui si intendeva benissimo si guardate chaplin anstein su wikipedia avrete un sacco di foto i loro due a teatro che si divertono da matti è importantissimo avere qualcuno con cui condividere le idee perché se non resta solo tipo van gogh si spara le ultime due ci sei sì caterina l'eterno ritorno ancora questa frase rappresenta la consapevolezza della circolarità del tempo grazie e buonasera no rappresenta un'idea una butade di un filosofo tedesco che non stava tanto bene quel periodo per diverse malattie in particolare grave non curabile che si chiama dice dice che ha tirato fuori lui di storia dell'eterno ritorno che tutto quanto si ripresenta allo stesso modo e la tirata fuori dicendo è così per tutti non è così per tutti è così solo all'interno di uno spazio limitato della tua esperienza sicuramente all'interno dello spazio limitato della tua esperienza si ripete tutto quanto da capo se tu vuoi essere al sicuro c'è l'eterno ritorno ciclico ciclo piccolo ciclo più grande sempre uguale non ti vuoi mai l'unico modo di evitare il terreno ritorno e uscire dalla sicurezza andare verso la happiness diciamo prima ricordo un po l'attrattore il tuo disegno fai che facevi qualche tempo fa e questo lorenza l'ultima domanda la spirale del tempo può essere rappresentata dal numero 9 e l'immaginazione fuori dalla spirale all'interno della sfera celeste da un punto e dal numero 10 inizio dell'azzeramento dove ogni cosa è possibile e anche il suo contrario mi piacerebbe tanto rispondere a questa domanda ma non ne so niente di numeri per sapere queste cose dovreste parlare con una persona che se ne intende io ne conosco una prossima volta ve la presento che è una silvia pernarella che era numerologa interessante che di fronte a questa domanda 9 10 parlerebbe per 5 minuti in modo illuminante ma io non ne so purtroppo niente di numeri per me è proprio il numero è come un colore quindi non i colori sai sono miliardi di miliardi di colori e dire che come un colore vuol dire che per ognuno ci sono 18 mila uni questo è da sempre così elementari è stato molto brutto quando l'addizione l'ho capita bene anche la sottrazione mi è chiara la moltiplicazione tuttora non come fa due per tre a diventare sei io non lo so divisione non ne parliamo questo non diceva informati no ma non no perché non è che se uno una domanda deve forse la risposta cioè la filosofia l'arte eccetera si fa domande da migliaia di anni a cui non ha trovato risposta cioè cos'è l'anima cos'è la realtà cos'è lo spazio cos'è il tempo per esempio steven hawking diceva non chiedetemi se quello che sto dicendo si ripresce la realtà perché la realtà non ho idea di qualsiasi non c'è una cartina al torna solo e mi permette di stabilire se una cosa è reale oppure no un fisico dovrebbe occuparsi solamente di realtà ecco per cui lasciare lasciare certe domande senza risposta ma non per pigrizia per metodo su me è molto utile almeno io faccio così sì direi che il gruppo contadino è d'accordo con questa tesi delle domande aperte e lasciate lì è stato un bel esperimento è stato stato un bel esperimento se è piaciuto questo format possiamo anche più avanti provare un po riproporlo volentieri è una bella idea dal punto di strato culturale perché il dialogo attualmente proprio la cosa migliore è più interessante il dialogo della conferenza sì tra l'altro sinceramente mi aspettavo anche dei vocali con i vaffanculo i bastardi tutti carini molto rispettosi intimi no damiano ha il mito della radio che faceva no radio bestemmia credo radio radicale gli anni 70 70 80 c'era una rubrica si chiamava radio bestemmia e la gente telefonava e beva trenta secondi poteva dire quello che voleva la piano a quel mito di mandato di qualche brutta parola fino a questo momento no nel senso che quando apri i microfoni può succedere di tutto invece invece sono fatti tutti carini poi tanti purtroppo ne abbiamo dovute scegliere c'è però sì 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 assolutamente sì ma fare che loro continuano a fare domande ogni tanto ci sentiamo tipo una volta bellissimo una volta al mese ma anche di più e anche più dice vivo due volte però anche una va bene anche una non poi si rompe le scatole infatti adesso poi ci ragioniamo bene dai allora dire ecco magari con igor adesso chiudiamo la diretta poi ci tratteniamo un minuto che intima mente e salutiamo a sì vediamo un ultimo i commenti grazie grazie di cuore salutano mi sono autosabutata collegandomi tardi ne si però la diretta rimane quindi assolutamente riguarda la distanza può sentire dopo sì 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 la diretta rimane sia su youtube che su facebook si può fermare sulla piazzola dell'autostrada domani si ascoltano un'ora e venti da bello eh sì sì bello grazie igor e sei stato generosissimo come sempre e grazie a tutti alla prossima a presto un grande abbraccio ciao ciao